La trattativa sugli stipendi dei dipendenti Carife si fa sempre più aspra, ma non raggiunge risultati tangibili. Ieri si è svolto un altro round tra i vertici di Nuova Carife e le rappresentanze sindacali, ed erano presenti anche rappresentanti dei vertici della Banca Popolare dell'Emilia-Romagna, ma soltanto in veste di osservatori. In discussione ci sono una serie di voci dello stipendio. L'azienda, dal 31 marzo scorso, ha deciso di cancellarle perché le considera parte integrante del contratto integrativo interno che è stato disdetto. I sindacati, ma anche i dipendenti, le considerano voci storiche acquisite ormai da molti anni, provenienti in gran parte dalla vecchia contrattazione nazionale delle casse di risparmio. Il danno per i dipendenti può arrivare anche ad alcune migliaia di euro l'anno, a seconda dell'anzianità e della posizione. L'incontro sindacale di ieri, nonostante una manifestazione a supporto organizzata davanti alla sede di Carife da una cinquantina di dipendenti, non ha sortito effetti. L'azienda propone solo il ripristino parziale delle voci di stipendi in discussione e comunque non intende retrocedere sulla disdetta del contratto integrativo. I sindacati hanno anche chiesto di avviare un confronto sulla futura integrazione, anche dal punto di vista contrattuale, dei dipendenti di Nuova Carife nella Banca Popolare dell'Emilia-Romagna. In fin dei conti, proprio il direttore generale di Biper, ai microfoni di Telestense, aveva lanciato alcuni giorni fa segnali positivi in questo senso. La nostra banca ha una tradizione di rapporto molto buono con i propri dipendenti e dal momento in cui arriveremo a formalizzare l'acquisizione, i dipendenti attuali di Carife, a tutti gli effetti, saranno allineati a quello che è sempre stato per i dipendenti di Biper, il che significa la principale risorsa su cui la banca fa leva.